Aria tesa tra Ilari Blasi e Mediaset Pier Silvio Berlusconi non sarebbe affatto soddisfatto dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. Sotto il mirino dei bassi ascolti e delle critiche, Ilari Blasi potrebbe essere costretta a lasciare la conduzione dell'Isola dei Famosi, e anche dire addio a Mediaset, azienda in cui lavora ormai da decenni. Le voci riguardanti il possibile abbandono della fermata conduttrice, sono state sollevate dal settimanale Nuovo TV, gettando luce su una situazione potenzialmente tumultuosa, dietro le quinte del famoso reality show. Secondo quanto riportato dal giornale, Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, non sarebbe affatto soddisfatto dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, che va in onda ogni lunedì sera su Canale 5. I bassi ascolti registrati sarebbero tra i principali motivi di preoccupazione per Berlusconi, dato che la trasmissione ha subito un notevole calo rispetto allo scorso anno. Tuttavia, questo non sarebbe l'unico ostacolo che ha colpito il programma. Gli abbandoni dovuti ad infortuni, rappresentano un altro grande dilemma che ha influenzato negativamente il reality, senza parlare dei costi che ci sono dietro alla trasmissione. Il programma, infatti, richiede un notevole investimento in termini di produzione e organizzazione, ma sembra che questi sforzi non siano stati ricompensati dai risultati ottenuti. Ma, non è finita qui. In aggiunta, sembrerebbe che l'atteggiamento di Ilari Blasi stia infastidendo la direzione di Mediaset. Sempre secondo quanto riportato da Nuovo TV, la conduttrice non nasconde il desiderio di tornare a casa e andare a dormire il prima possibile, dimostrando una mancanza di entusiasmo nei confronti del programma. Inoltre, si sostiene che Blasi guadagni una cifra notevole, pari a 300.000 euro, per ogni edizione del reality, che presenta dal 2021.